Prima la pandemia, poi la guerra, poi gli effetti sui costi energetici stanno creando profonde disuguaglianze dal punto di vista territoriale e questo si riflette sul piano sociale e economico. Se non si legge però quella che è la situazione europea con la lente territoriale, si rischia di non dare risposte incisive. Così il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni intervenendo alla plenaria del Comitato Europeo delle Regioni a Bruxelles in occasione della Settimana Europea delle Regioni. A proposito del rigassificatore di Piombino, entro il 27 di ottobre, quindi il 27 di questo mese, noi possiamo arrivare ad avere le condizioni per poter sottoscrivere l'autorizzazione. Sempre naturalmente che si svolga in modo positivo in questa direzione la conferenza dei servizi degli enti statali che esprimeranno un parere unico nella data del 13 ottobre attraverso una riunione che verrà fatta direttamente a Palazzo Chigi e attraverso la chiusura e la conferenza dei servizi che è prevista per il 21 di ottobre. Il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, in missione a Bruxelles per partecipare come relatore del piano per la ricostruzione dell'Ucraina alla seduta plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, ha detto La ricostruzione richiederà costi e sforzi ingenti per cui servono misure economiche appropriate. Il governo ucraino ritiene che la ricostruzione oggi sia fondamentale anche con la guerra in corso, anzi soprattutto perché è un grande segno di speranza di cui il popolo ucraino ha bisogno, è un modo per rafforzare ulteriormente le relazioni tra l'Unione Europea e l'Ucraina anche a livello di amministrazioni locali che ovviamente non sono coinvolte dal punto di vista né militare né finanziario ed è anche un modo per cominciare a ricostruire le città che non sono interessate dai bombardamenti.